Vincere aiuta sempre a vincere, ecco perché il successo contro il Martina è stato accolto con moderata soddisfazione dall'entourage della Fidelis. Non è ancora campionato il lì che conteranno realmente i punti, ma la Coppa Italia di Lega Pro è comunque una manifestazione ufficiale e poi la sfida contro la formazione della Valle d'Itria rappresentava pur sempre la prima uscita in assoluto dell'Andria targata Paolo Montemurro. A decidere il match è stato Francesco Grandolfo, proprio il primo ingaggio della nuova proprietà bianca-azzurra. Ci ha messo sei minuti l'attaccante di casa massima per sorseggiare il cocktail di benvenuto davanti ai suoi nuovi tifosi. Primo centro, prima vittoria, primi sorrisi per il momento e il caso di dire può bastare. Non bastavano invece lo stesso Grandolfo e Morra, anche egli titolare contro il Martina, al neotecnico Luca D'Angelo per il reparto avanzato. Ecco, spiegato così, l'arrivo di Robert Cristo, centravanti classe 93, giunto dallo spezia con la formula del prestito. E di origini bosniache, con passaporto croato e statunitense, sarà, assicurano dalla società, l'ultima operazione di questo mercato. Ma si sa, nelle prossime due settimane, sino al gong del 31 agosto, può succedere sempre di tutto. Tra le prime certezze arrivate dalla gara di Coppa, intanto, merita una citazione particolare. Nicolás Strambelli, alla terza stagione consecutiva in Biancazzorro, sarà lui il trequartista della Fidelis e in quella zona del campo che lo ha schierato contro il Martina, Luca D'Angelo. A me piace lì, lo metto lì dopo. Secondo me è uno che sta a fare molti ruoli, anche quello, è un giocatore che trascina la squadra, perciò ci auguriamo che sia sempre bene. Il secondo ed ultimo impegno nel girone inaugurale della Coppa Italia di Lega Pro per l'Andria, in programma domenica 30 agosto, in trasferta contro Lischia. Gli isolani, invece, esordiranno nella competizione tra sei giorni e affronteranno in trasferta un Martina già virtualmente eliminato.